Vi confesso una profonda stanchezza nell'assistere alla ripetizione di tutto quanto accaduto da febbraio scorso. Lo scaricabarire tra Stato e Regioni, la retorica melenza di Conte, i proclami di Arcuri, le risse tra virologi, le pagliacciate di Salvini, i talk show che ripetono la stessa identica fuffa. E tutto quello che conta continua a non accadere. È il giorno della marmotta, nulla si muove anche dal punto di vista del consenso dei partiti. Gli erettori sembrano del tutto indifferenti, non cambiano gli orientamenti di voto, non traiamo alcuna conseguenza politica dall'efficacia della gestione della crisi o dalla capacità di proposta dell'opposizione. Nulla. Tutto va avanti come sempre. Forse dipende dal fatto che non afferriamo la profondità di quanto sta accadendo. Forse non è un problema politico ma di semplice mancanza di comprensione. La crisi Covid è la crisi definitiva del funzionamento dello Stato italiano. Non riusciamo più neanche a spendere i soldi che abbiamo ottenuto indebitandoci. Cosa che una volta sapevamo almeno fare benissimo. Quando uno Stato non riesce a pagare la cassa integrazione in modo efficiente vuol dire che la quota di collasso è vicina. La stessa cosa vale per i 9,5 miliardi stanziati e solo parzialmente spesi sulla sanità. Questa crisi di funzionamento investe tutti i livelli amministrativi, regioni, comuni, Stato centrale e dal luogo lo scaricabarile a cui assistiamo ogni giorno. Prima del Covid ognuno di noi cercava di trovare percorsi personali e professionali il più possibile lontani dallo Stato. Le carenze dell'azione pubblica erano evidenti e determinavano un lento declino dell'Italia con cui tutti noi avevamo imparato a convivere. Oggi non è più così. Il funzionamento dello Stato fa la differenza tra la vita e la morte. Questo problema si è determinato perché la politica ha smesso di essere arte di governo. In poche parole in Italia non votiamo sulla base della credibilità dei programmi, della capacità di governo o dei risultati del governo, ma su un vago senso di appartenenza. Sono di sinistra e voto chiunque dica di essere di sinistra. Sono di destra, voto chiunque si proclami di destra. Non è rilevante se l'azione politica sia effettivamente di destra o di sinistra. Pensate all'immigrazione. Salvini va al governo e dice che spellerà 600.000 immigrati. Ne spelle meno di Alfano e finisce con il dire che non sono 600.000 ma sono solo 80.000. Va al governo la sinistra e dovrebbe occuparsi di integrazione, ma non fa assolutamente nulla. Anzi si tiene per più di un anno i famigerati decreti sicurezza per poi modificarli solo superficialmente. Questo vuol dire che non esistono più destra e sinistra? No. Vuol dire semplicemente che nessuno è più in grado di implementare una politica di destra o di sinistra. Siamo stati addestrati a decenni di scontro ideologico e a pensare che la politica è questo, una posticcia contrapposizione di suoni, di pose, di identità. Cadute le ideologie, lo scontro si è trasformato e peggiorato. Nella seconda repubblica è diventato puro agonismo. Voglio che vinca la mia squadra, in qualsiasi modo e con chiunque. Conte è passato da Burattino a grande punto di riferimento dei riformisti per la sola e unica ragione che ciò ha permesso di scalzare momentaneamente Salvini. In nessun paese al mondo gli elettori avrebbero consentito un tale livello di trasformismo. In Italia accade perché la politica è diventata come il Paglio di Siena. L'unica cosa che conta è non far vincere l'avversario. Perché dovremmo dunque avere uno Stato che funziona se non votiamo i politici perché facciano funzionare lo Stato? E se i valori che applichiamo nella nostra vita privata e professionale non li applichiamo alla politica. Se ereditassimo un bar non lo affideremmo a Salvini, Meloni, Di Maio, Conte o Raggi. Per la semplice ragione che non hanno alcuna esperienza amministrativa. Ma lo Stato o la capitale d'Italia? Quella sì, gli affidiamo senza problemi, nonostante siano immensamente più complicati da gestire del famoso bar. Perché accade? In parte perché non sentiamo lo Stato come una cosa nostra. In parte perché ormai ci hanno convinti che la politica è un'altra cosa. Un'eccezione a tutto. Un mondo che è regolato da leggi diverse, incomprensibili. Nel multiverso della politica l'amministrazione spetta la burocrazia, mentre il politico puro deve essere solo l'eco delle nostre rabbie e delle nostre identità. Il leader politico deve essere un nostro avatar che va in televisione a dire esattamente quello che diciamo al bar la mattina. In modo che noi possiamo dire è come me, dice le stesse cose. Attenzione, questo è un cambiamento decisivo. Dalla nascita della democrazia è stato chiaro per gli elettori che chi si proponeva come guida politica dovesse essere più colto e preparato di loro per trovare soluzioni ai loro problemi. Oggi questo principio si è invertito. Per essere votato devi essere il mio specchio, punto. Altrimenti mi stai anche sulle balle. Che vuoi fare? Il primo della classe? Di rimostrarmi che sei più capace? Per conseguenza la politica è diventata sostanzialmente opposizione anche se si sta al governo. Per questo sentiamo Di Maio e Zingaretti lanciare duri moniti al governo di cui fanno parte. Non puoi perdere la funzione di specchio della rabbia e dell'insoddisfazione degli elettori. Ovviamente se qualcosa non funziona c'è sempre la possibilità di incolpare la burocrazia. Peccato che lo stato della burocrazia e la responsabilità di gestirla ricadano interamente sulla politica. Noi non accetteremo mai dal famoso gestore del nostro bar che ci dicesse il bar fa schifo perché i dipendenti lavorano male. Pretenderemo che sia lui a farli lavorare bene. Ma in politica perché è un'altra cosa? Non segue le leggi della razionalità. Tutto ciò è accettabile. Siamo diventati vittime del nostro modo di concepire la politica. Non ci ribelliamo a questa idea di impotenza dello Stato. Passiamo oltre e continuiamo a votare secondo i mulcanismi che ho descritto prima. Questi sono i nodi irrisolti che stanno portando l'Italia al collasso. Come i criceti sulla giostra votiamo le persone per ragioni sbagliate. Ci arrabbiamo perché non risolvono i problemi ma non cambiamo comportamento di voto. Semplicemente ci arrabbiamo ancora di più e votiamo chi ci sembra arrabbiato almeno quanto noi per poi ricominciare tutto da capo. Da questa giostra è arrivata il momento di scendere. Ci sono però mille alibi che ci imprigionano e la politica è diventata abilissima a tirarli fuori per tenerci fermi dove siamo. I fascisti, l'invasione dei migranti, il senso di appartenenza, la paura del futuro, i nemici esterni. Ma alla fine sono tutti solo mostri di carta pesta e in fondo lo sappiamo benissimo.